Ben trovati all'appuntamento con Dentro il Consiglio. La prima edizione del nostro settimanale di questo 2023 e torniamo un po' indietro nel tempo per tirare di fila di quello che è successo proprio nell'ultima seduta di Consiglio regionale. Ecco il titolo. Infatti parliamo dell'approvazione della manovra di bilancio ma con un maxi emendamento, un accordo bipartisan. E quindi ripartiamo proprio da lì, da dove ci siamo lasciati, ovvero nell'ultima seduta del 2022 perché è stato approvato a maggioranza per alzata di mano la manovra finanziaria regionale dopo un lungo dibattito che è iniziato peraltro nel martedì 20 dicembre e si è concluso nella tarda serata di giovedì 22 dicembre. Con l'accordo su un maxi emendamento che di fatto mette appunto d'accordo maggioranza e opposizione. La discussione della manovra ha compreso il bilancio di presione 2023-2025, la legge di stabilità per il 2023 collegato alla nota d'aggiornamento al DEFRE. È iniziata appunto, come dicevamo, nel pomeriggio di 21 dicembre con l'illustrazione degli atti da parte del Presidente della Commissione bilancio, Giacomo Bugliani. Nel tardo pomeriggio poi di giovedì 22 maggioranza e opposizione hanno trovato un accordo su un maxi emendamento con misure bipartisan tra cui un contributo al sistema neve ai comuni con meno di 20 mila abitanti per le famiglie con figli disabili e per trattamenti di estetica oncologica. Questo bilancio vale circa 12 miliardi di euro di cui 7 miliardi e mezzo di fondo sanitario, 2 miliardi e 300 milioni di programmazione europea. E illustrando il maxi emendamento in aula, Gianni ha sottolineato che i singoli emendamenti sono stati il contributo arrivato dai singoli consiglieri regionali sia di maggioranza che di opposizione. Poi quindi intorno alle 22.30 c'è stata l'approvazione a maggioranza. Cerchiamo così di fare il punto della situazione raccontandovi questi tre giorni di Consiglio regionale partendo dal Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e arrivando fino al Presidente della Regione Toscana Eugenio Gianni. Sono state giornate lunghe, intense con un unico obiettivo, cercare di approvare il bilancio per dare risposte alle cittadine e ai cittadini della Toscana. La necessità di non aumentare la tassazione è stata una delle scelte principali di questo bilancio. Le risorse, più di 100 milioni di euro per cofinanziare i fondi europei e questo ha ricadute nella vita di ciascuno di noi. Penso per esempio alla possibilità a partire da settembre di offrire gli asili nido gratuiti a tutte le famiglie toscane sotto i 35 mila euro di sé. Oppure finanziare le tante iniziative imprenditoriali che decidono di investire nel territorio della nostra regione. Un bilancio che pone l'attenzione nelle zone più periferiche. Noi ci siamo posti un obiettivo. Un bimbo che nasce nel comune più periferico della Toscana deve avere gli stessi diritti e le stesse opportunità di una bambina che nasce a Firenze. Sede è quello che facciamo con le risorse per i piccoli comuni, offrendo la possibilità di sostenere le tante iniziative che ci vengono proposte dai territori sotto i 5 mila abitanti. Insomma un bilancio che pone al centro il tema della salute, della sanità pubblica, della scuola pubblica e che offre opportunità alle cittadine e ai cittadini toscani. Un bilancio che tiene conto della situazione di estrema incertezza nella quale si trova la nostra regione come del resto il nostro paese tutto il panorama internazionale sia per le vicende che riguardano la politica internazionale sia per il caro energia. Una situazione quindi complessa che però ha spinto la regione toscana a voler approvare nei termini la manovra di bilancio. E questo ha legislazione vigente quando ancora non è stata approvata la manovra finanziaria a livello statale. Una scelta che si è voluto fare proprio per evitare l'esercizio provvisorio e quindi l'impossibilità da parte della regione di dare alcune puntuali risposte a interventi di cui il territorio regionale ha assoluta necessità proprio a partire dal 1 gennaio del 2023. C'è da dire che di fondo si registra uno squilibrio di parte corrente per 150 milioni che viene compensato con lo spondamento di alcune politiche di spesa che però verranno tutte recuperate con la nuova programmazione comunitaria che prenderà il via dall'anno prossimo. Ci sono una serie di risorse importanti che vengono incrementate. Sono circa 427 milioni di euro quelli che vengono ad aggiungersi al fondo sanitario. Quindi avremo una dotazione maggiore da questo punto di vista ma c'è anche un incremento di 850 milioni di euro sulle risorse comunitarie previste per il periodo 2021-2027, un incremento sensibile di risorse provenienti dal PNRR e 109 milioni di spesa in conto capitale che vengono da risorse regionali. Questo ci consente anche di ricalibrare in alcuni settori strategici di governo della Regione le risorse che vengono messe a disposizione. Tra i settori nei quali si registra un maggiore incremento di risorse e quindi anche di interventi da parte della Regione Toscana per l'annualità 2023 ricordiamo innanzitutto la materia del diritto allo studio, quella della cultura dove vengono fatti numerosi investimenti sotto il profilo della tutela del patrimonio storico-artistico e quindi del recupero degli edifici storico-artistici nel territorio della Regione. Un incremento significativo delle risorse destinate alle politiche sociali. Ci sono 30 milioni di euro che sono finalizzati all'edilizia popolare pubblica, quindi un intervento molto atteso che consentirà di dare risposte puntuali al territorio. Ci sono alcuni settori strategici che hanno una crescita di risorse a disposizione dopo un periodo di contrazione. Penso soprattutto alla materia del turismo, nella quale si registra un incremento di circa 11 milioni di euro per l'annualità 2023, ma anche settori importanti come ad esempio quella della difesa del suolo. Per quanto riguarda la materia delle infrastrutture e dei trasporti, rimane sostanzialmente invariato lo stanziamento. Siamo a circa 950 milioni di euro sull'annualità 2023, molti dei quali circa 640 sono destinati proprio alla Convenzione per il trasporto che viene usualmente e annualmente effettuato sia via terra, sia via ferro, sia via mare. Comunque risorse che hanno sempre avuto una certa capienza e che vengono confermate anche per l'annualità successiva. Il Consiglio approva un bilancio che mette risorse importanti per le infrastrutture scolastiche, per la cultura, per gli invasi, per i comuni, tante questioni che vengono affrontate, asili gratis per i bambini in famiglie fino a 35 mila euro, risorse per famiglie che hanno dei minori disabili, risorse aggiuntive per RSA e RSD, una manovra che è sociale, che è economica, che alla fine si chiude non aumentando le tasse, così come te l'aveva chiesto, non viene aumentato il bollo, non vengono aumentate le addizionali IRPEF e soprattutto i comuni trovano risposte importanti. Penso a dei comuni che avevano sollecitati interventi storici, penso a Marradi, dove si può fare lo svuotamento di un invaso, penso a Bagnarripoli rispetto a interventi infrastrutturali, penso anche a Castellina Anchianti rispetto a iniziative finalizzate allo sport e nel contempo altri comuni come Mulazzo, altri comuni importanti ovviamente come Pistoia, ma nello stesso tempo anche in realtà importanti nell'area di Pistoia, nell'area di Pisa, un ritrovamento che avevamo chiesto con forza a Ponsacco rispetto a una soluzione di problematiche di carattere abitativo e poi risposte infrastrutturali che vanno per tutta la Toscana in termini culturali e sociali. Credo un bilancio positivo che consolida la maggioranza di governo, PD e Telia Viva hanno ritrovato un accordo nel metodo del lavoro, un sostegno al Presidente Gianni per arrivare a metà mandato più forte di come siamo entrati in queste esperienze. Un amore bilancio che arriva naturalmente come sempre in tempi stretti, questa volta veramente siamo stati travolti da una serie di documenti, a cominciare dalla nota di aggiornamento al DEF, da tutta una serie poi di interventi che sono stati portati dalla Giunta, quindi ci aspetta un esame assolutamente approfondito. La questione è sempre la stessa, siamo di fronte anche qui a un'assenza ancora del piano regionale di sviluppo, naturalmente una partita importante sicuramente già fin da ora la possiamo dire e riguarda gli enti locali. Personalmente ho ritenuto opportuno, in una fase anche di particolare criticità, ho tenuto conto anche delle difficoltà degli stessi comuni, di molti comuni, di arrivare anche a completare alcune opere importanti legate al PNRR, oggi c'è bisogno di dare un segnale concreto, ecco perché tra le migliaia di emendamenti dei miei colleghi ho preferito focalizzarmi su tre situazioni che ritengo importanti, la prima è sicuramente quella di dare sostegno ai comuni, a quei comuni intermedi fino ai 20.000 abitanti che oggi allo stesso modo dei piccoli comuni necessitano di un sostegno approfondito sul fronte degli investimenti, dall'altro ripropongo un tema che ho sostenuto già con forza che sono i 9 milioni derivanti dall'aumento sostanzialmente del bollo auto che io insisto vengono poi destinate all'efficientamento delle imprese. Ci aspettavamo da questa manovra molto più chiarezza, un disegno, una strategia e anche un po' di coraggio. Le materie che sono all'ordine del giorno della seconda commissione risentono moltissimo di tutto quello che sta accadendo, dell'inflazione, del post-covid, della crisi energetica, della guerra in Ucraina, del rincaro dell'energia, tutto chiaramente va a pesantire molto quelli che potevano essere gli interventi sulla seconda commissione, però appunto ci sembra che manchino due cose, manca una risposta, manca una risposta chiara e manca chiaramente una risposta che fosse energica, che fosse in grado di liberare le energie invece in tutti i settori, dal turismo all'agricoltura, passando per il commercio e per l'artigianato. Nonostante questo chiaramente non ci sentiamo smentiti perché le incertezze sul futuro di sviluppo toscana che in questi giorni abbiamo risentito in aula, per non parlare del fallimento pressoché completo della tabella di marcia sul PNRR non è che ci gratificano. Siamo fortemente preoccupati, quindi cosa potevamo fare? Di più? Assolutamente forse no. Potevamo fare un pochino prima e sicuramente molto meglio. Sì, la posizione del nostro gruppo è un appello al Presidente Gianni nel senso di responsabilità, nel senso di collaborazione anche con le opposizioni. Il bilancio è arrivato all'attenzione del Consiglio regionale soltanto dieci giorni fa, un bilancio importante, un collegato importante, una legge di stabilità importante e non si può accettare che l'opposizione abbia soltanto dieci giorni per analizzare la manovra più importante dell'anno. Noi abbiamo chiesto rispetto delle regole, rispetto del nostro regolamento, del nostro statuto perché il nostro lavoro di garanzia, di controllo, il ruolo che hanno scelto per noi i cittadini toscani merita rispetto. Quindi noi siamo disposti anche a concludere la nostra battaglia con la miriade di emendamenti e ordini del giorno che abbiamo presentato, soltanto che oltre all'attenzione ulteriore verso i disabili, Maggiani faccia un'ammenda e dica al Consiglio regionale che da oggi in poi il lavoro del Consiglio sarà nel rispetto delle regole, nel rispetto e in garanzia soprattutto delle opposizioni. Altrimenti continueremo la nostra battaglia. Io credo che con questa legge si capisca ancora più chiaramente quanto il Presidente Gianni stia cercando di accentrare le risorse e il controllo su queste risorse nelle mani della Giunta. Innanzitutto potenziando sviluppo toscana, il che potrebbe anche essere una cosa favorevole, se nel frattempo non si danneggiasse invece Fidi Toscana, che da essere un soggetto importante per la Regione adesso è in fase di smembramento e cessione praticamente, questo da tempo, nonostante nel programma del Presidente ci fosse ben altro tre anni fa. Innanzitutto poi la creazione di questo CdA, ci sono dei passaggi di possibili illegittimità, un CdA nominato interamente dalla Giunta, quando tutti sanno invece che alcune nomine vengono fatte anche dal Consiglio regionale e anche dalle opposizioni. controllo su milioni di euro che specialmente al fronte del nuovo settennato dell'Unione Europea e a fronte degli investimenti che verranno fatti in Toscana significano una sola cosa, che il Presidente Gianni vuole controllare tutto ciò che ha a che fare con l'economia, compreso anche il sostegno alle categorie economiche. Quindi tutto deve essere nelle sue mani in una sorta di accentramento che è cominciato in realtà già da tempo ma che lui sta rafforzando ancora di più. Ma è un emendamento che raccoglie ciò che sia la maggioranza sia la minoranza hanno proposto rispetto al bilancio così come è presentato dalla Giunta. È un maxi emendamento che arricchisce le previsioni di intervento e di spesa della Regione in una serie di settori, soprattutto il sociale, ma anche settori che in qualche modo possano affiancarsi ad essi. la cultura, tanto per fare un esempio, le questioni ambientali. Devo dire che dimostra che il bilancio diventa un atto concertato fra maggioranza e opposizione e quindi il contributo diventa un contributo costruttivo a un lavoro che la maggioranza con molto dialogo e apertura riesce a sviluppare. Il bilancio quest'anno è un bilancio di investimenti 100 milioni in più nella parte corrente del bilancio a questo dedicati. La definizione di un impatto e di un impegno forte della Regione per la realizzazione con 200 milioni, 195, dell'ospedale di Livorno, lo sviluppo dei lavori di potenziamento a Cisanello a Pisa, la realizzazione della Darsena Nord, della cosiddetta Darsena Europa al porto di Livorno, che consentirà un pescaggio da 12 a 20 metri, quindi tante più navi potranno attraccare, di interventi che vanno poi in modo più puntuale a coinvolgere il territorio. E questo era anche il resoconto di quello che è accaduto nell'ultima seduta del 2022. La prossima settimana invece staremo insieme per parlare anche della prima seduta del 2023, ma ovviamente per tutti gli aggiornamenti vi ricordo il sito inter www.inconcilio.it A questo punto vi aspetto, come il nostro solito, tra sette giorni, sempre qua, dentro il Consiglio. Grazie a tutti!